Durante la diretta streaming ieri sera il Rosso è stato abusato da ArtiFive e dai suoi amici E appunto gli hanno rovesciato una birra addosso andandola a prendere in giro E chiaramente anche lui ha accolto la presa in giro bemandoci anche su questa cosa Non aggiungo altro ma vi lascio ai filmati Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo in un prossimo video in linea lo studio Quale artista il Rosso viene abusato in ogni livello? ArtiFive! No, 5, 5 Ha voluto segnare? Questo è il primo avvertimento